... Incidente nella strada di sabato 25 maggio intorno alla 22.30 in via Favri a angolo via Carlo Ignazio Giulio a Rivarolo Canavese. Una lancia Y fuori controllo condotta da un giovane del 2004 ha battuto la barriera di protezione del marciapiede e successivamente la staccionata di delimitazione di una villa. Quindi la vettura si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Il giovane fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è uscito da solo dall'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e l'ambulanza del soccorso avanzato dalla Croce Rossa di Castellamonte. Il ragazzo dopo le prime cure è stato affidato alla Croce Bianca del Canavese, giunta successivamente per il trasporto in ospedale. La dinamica al valio dei carabinieri. La mia famiglia è la sua frequenza. Grazie a tutti